La Corte d'Appello di Bari ha ridotto a 7 anni e a 6 anni e 8 mesi di reclusione le condanne in primo grado nei confronti di Giuseppe Oreste e Francesco Abbinante il 27enne e il 24enne riconosciuti colpevoli di aver causato la morte del 34enne Onofrio Recupero il 29 ottobre 2020 al termine di una gara di velocità per le strade di Bari che si concluse con un grave incidente in via Napoli. In primo grado i due in abbreviato erano stati condannati a 8 anni e 4 mesi, a 8 anni di reclusione per omicidio stradale, lessioni personali stradali gravi e per il solo Oreste omissione di soccorso. La procura generale aveva chiesto la conferma delle condanne di primo grado. Quella sera i due che viaggiavano con un passeggero a testa in macchina decisero di lanciarsi in questa gara a folle velocità toccando anche i 150 chilometri all'ora. Arrivati in via Napoli la Fiat di Abbinante provò a superare l'Audi a 3 di Oreste ma secondo quanto è emerso dalle indagini invase la corsia opposta e centrò in pieno la Peugeot su cui viaggiava Recupero.